Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Incisa Reggello e Firenze Sud. In A12 per lavori è chiuso lo svincolo di Rosignano Marittimo in entrata verso Genova in uscita provenendo da Genova. Per i treni per lavori di raddoppio ferroviario per tutta la giornata di oggi sospesa la circolazione tra Pistoia e Montecatini Terme. A seguito dell'attivazione dell'allarme SAMF la circolazione dei treni tra Marradi e Faenza è sospesa, previste corse sostitutive con bus. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!